Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Le forze dell'ordine hanno sanzionato a Trieste tre persone nel corso della notte per aver violato il coprifuoco nottuno. Una in particolare un uomo di 57 anni è stato denunciato perché si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta in via Puccini e aveva nello zaino vari arnesi e attrezzi da scasso. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine notato verso le 22.30 da una volante della Questura. Complessivamente ieri a Trieste, come riporta la nota quotidiana della Prefettura, sono state controllate 600 persone di cui 25 dalle ore 22 alle 5 e sono state effettuate sei sanzioni di cui appunto tre durante le ore di coprifuoco e tre durante la giornata persone che erano prive di mascherine. Sono stati controllati quattro esercizi commerciali. Uno stalker è stato arrestato dagli agenti del commissariato di San Sabba a Trieste per aver violato la misura del divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna. L'uomo si trova ora di omiciliari. In seguito all'ordinanza emessa dal GIP di Trieste su richiesta del PM le indagini da parte del settore anticrimine del commissariato sono partite ad agosto quando una donna stanca e impaurita dei numerosi atti versatori subiti dall'ex compagno si è presentata negli uffici di via Mascagni per sporgere querela. Trieste piange un imprenditore che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo turistico della città. La notizia della morte di Alessandro Lucchetta amministratore della Golden Resort che a Trieste gestisce l'hotel continentale il Palace Suite e The Modernist ha lasciato ieri mattina senza fiato quanti in città avevano avuto la possibilità di conoscere una persona pacata estremamente riservata e di rara capacità imprenditoriale. Sono veramente dispiaciuto ha commentato il sindaco di Trieste Roberto di Piazza scosso dalla notizia della morte perché Alessandro era una persona alla quale volevo molto bene avevo grande stima di lui come persone come imprenditore amava molto Trieste malgrado non fosse triestino. Cronaca incidente stradale intorno alle 5 di questa mattina in via Fabio Severo a Trieste all'altezza del civico 142 una vettura per cause da accertare si è capottata alla guida c'era una studentessa di 28 anni che è riuscita ad uscire autonomamente dal mezzo ed è stata poi presa in carico dai sanitari del 118 per accertamenti sul posto intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area mentre i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Trieste. Una persona arrestata e sei denunciate per un totale di 2607 persone controllate e bilancio del fine settimana della polizia ferroviaria del Veneto impegnata in particolar modo in patugliamenti nelle stazioni di Mestre e Venezia Santa Lucia. Diversi gli episodi registrati nello scalo della terraferma un 26enne è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver scippato una donna ed essersi scagliato contro gli agenti che lo stavano inseguendo l'uomo senza fissa dimora era stato ritrovato anche in possesso di un martello frangivetro con il logo delle ferrovie. Sempre a Mestre una 17enne allontanatasi da una struttura per minori di Rimini è stata trovata in possesso di due cacciaviti e una chiave inglese per il possesso del quale non ha saputo dare spiegazioni mentre un suo coetano è stato segnalato alla prefettura dopo essere stato trovato in possesso di stupefacente per uso personale. A Venezia invece gli agenti della Polfer sono intervenuti in un locale di ristorazione dello scalo a seguito della segnalazione di fuoco. furto raccogliendo l'identikit della responsabile i poliziotti hanno rintracciato la ladra una 41enne senza fissa dimora con precedenti penali denunciandola per furto aggravato. Un esempio di efficace collaborazione tra pubblico privato che ha permesso di gestire al meglio l'emergenza coronavirus all'interno di una struttura residenziale del nostro territorio. Così il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi ha definito quanto accaduto all'interno della chasse ballet presente a Pignano di Ragogna in cui l'associazione il Samaritan Onlus offre un servizio di uno e residenziale a favore di 12 persone di età diverse con vari gradi di disabilità. Qui il 16 ottobre si verificò il primo caso di positività in un operatore della struttura e il giorno successivo furono effettuati i tamponi rapidi a tutti gli ospiti dai quali è emersa la positività dei primi otto ospiti e sei membri del personale. Di lì a poco anche tutti gli altri residenti e il resto del personale risultarono affetti da coronavirus. Alla presenza del sindaco Alma Concil del direttore generale dell'Asuf Massimo Braganti e del presidente della comunità Renzo Casasola Riccardo ha voluto dapprima ringraziare tutto il personale della struttura che in ogni momento è stato vicino e ha seguito gli ospiti con encomiabile impegno e professionalità. Sul Friuli Venezia Giulia c'è in genere poco un nuvoloso per velature di passaggio sulla costa Borino. Domani cielo sereno poco nuvoloso con Borino sulla costa, è possibile qualche annuvolamento specie verso sera. Passiamo al Veneto, oggi cielo sereno con foschie o nebbie su parte della pienura specie nel Rodigino e Basso Padovano, poi poco parzialmente nuvoloso con diradamento delle foschie e delle nebbie e passaggi di nubi alte che schermano in parte e solleggiamento, riduzione della visibilità della sera per formazioni di foschie o nebbie specie sulla pianura centro orientale. Per quanto riguarda invece la giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso, probabili nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde, tendenza ad aumento della nuvolosità verso sera. Per quanto riguarda le temperature minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo sulle zone montane, massime in generale diminuzione. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPA Vagenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione.